Stamani mi sono svegliato colpito da voci e clamori di cuori una gran confusione si vedeva dal balcone le strade erano tutte accollate, gli strilloni sentivo gridare un'edizione speciale ha rubato stanotte alle tre il Duomo di Milano quanta gente fra sé si domanda com'è porca lotta ma il Duomo dov'è con un metodo tutto speciale brevetto americano l'hanno potuto smontare con le mani pian pian e fuggire con l'areo plan si son presi anche la madolina cittadona, piscinina e smierino che fra i lacrimoni buiuni, buiuni si è messo a gridare ha rubato stanotte alle tre il Duomo di Milano e la gente fra sé si domanda com'è porca loca ma il Duomo dov'è da tutte le radio del mondo la strana notizia volò gridavano in ogni stazione attenzione, attenzione un premio di cento milioni potranno vincere gli ascoltatori se pescheranno gli ascoltatori la voce di Milano e la gente fra i lacrimoni non è che il Duomo d'intorinale con i grandi cartelloni, e Pierino che fra i lucciconi, Puglioni, Puglioni, se me sorridà, ha rubato stanotte alle tre, il tuo uomo di Milano, e la gente fra te, si domanda com'è, porca loca, ma il tuo uomo dov'è? Oh, mia vera, no è domina, di domina, credi, sto fu in questa mattina, se inserire a me.